Grazie. 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 Buongiorno. Allora, un avviso veloce e poi cominciamo subito a entrare in argomento. Per quanto riguarda le due gite, la proposta in Irlanda l'abbiamo completata, siamo stati in grado di dare risposta a tutti quelli che hanno chiesto, perché qualcuno poi all'ultimo momento per questioni varie, organizzative e quant'altro, non ha partecipato, non ha potuto partecipare, per cui abbiamo potuto veramente dare una risposta positiva a tutti coloro che avevano chiesto, e questo mi fa piacere. Per quanto riguarda invece la gita di Modena Grosseto, lì siamo in situazione contraria, nel senso che siamo circa una ventina, quindi siamo in un numero molto limitato, per cui se c'è qualcuno che ha voglia di venire, o qualche amico, parente a cui consigliare, la teniamo aperta ancora per qualche giorno, poi faremo il punto della situazione per vedere se confermare o meno. Io penso di sì, perché anche se siamo in venti, anzi forse sarà una cosa più tranquilla, più serena. Come si dice in bergamasco, poca brigata, vida beata. Però è anche bello che ci sia anche qualcun altro, insomma, di arrivare intorno alla Trentina. Ecco, il Trenta è un bel numero, né troppo grosso né troppo piccolo. Bene, d'accordo? Ecco, quindi questa è la situazione. Oggi è venuta ancora la signorina che ha raccolto le ultime iscrizioni, per cui siamo da questo punto di vista a posto, ripeto, con questo punto di domanda sulla gitta di Modena-Grosseto. Bene, allora, entriamo in argomento con oggi, avete visto, fine del mese di gennaio, ma finisce anche, diciamo, il primo capitolo dei nostri incontri, della serie degli incontri dedicati a raccontare le vicende, gli uomini, le donne, la mentalità, la cultura di cento anni fa, nel limite del possibile, perché è più, non so, questa è una mia idea che mi sono fatto ascoltando questi incontri, più uno guarda, più approfondisce, più vede che ci sarebbero altre cose da approfondire. Però, ecco, non possiamo fare un'enciclopedia su questa questione, e quindi credo che abbiamo dato un bel panorama e con oggi concludiamo. Da settimana prossima cominceremo una serie di due incontri dedicati a ricordare due importanti anniversarie che sono scattati nel 2015, ecco, noi le abbiamo un po' recuperate all'inizio del 2016, in particolare Dante Lighieri, settimana prossima, e poi l'importante organizzazione di volontariato che ha compiuto 750 anni di attività, quindi un'istituzione veramente importante. Però, ecco, torniamo a noi, oggi l'ultimo incontro, e questo ultimo incontro ho chiesto di venire a parlare qui con noi il signor Luca Stefano Cristini, che in questo periodo si è distinto per tante cose, ma direi che per quanto riguarda il nostro argomento, il nostro tema, si è distinto per quanto riguarda appunto il tema Bergamo nella Grande Guerra, e ha pubblicato tra l'altro un libro, chiedo scusa, che è stato edito dall'Eco di Bergamo 4-5 mesi fa, quando? Il giorno in cui è iniziata la guerra. Ecco, quindi il 24 maggio, il 24 novembre è finita, stavo confondendo, che più che un discorso, diciamo così, di tipo narrativo, racconto, racconta attraverso le immagini, e immagini non così generali, di Italia, dei soldati d'Italia, ma soprattutto immagini che lui ha ricevuto, poi ce lo spiega lui, soprattutto da amici conoscenti di Bergamo. Quindi, ecco il tema, lo vedete lì, Bergamo nella Grande Guerra, e come vi dicevo, presenta questo argomento Luca Stefano Cristini, che pubblica l'editor di illustratore, fotografo, grafico, dirige una casa editrice che si occupa prevalentemente di storia, di storia militare, di uniformi, di costume. È stato anche direttore di riviste di storia e di modellismo, illustratore per De Agostini, per la Mondadore, tutto storia, isomedia, quindi vi vedete che è una persona che si interessa fondamentalmente di questi aspetti di carattere, diciamo così, fotografico. Tra i suoi lavori più importanti, i due volumi scritti sulla guerra dei 30 anni, unico studio su questa vicenda mai scritto in italiano, fra gli ultimi lavori ricordiamo un volume dedicato alle mura di Bergamo, uno alla figura di Bartolomeo Coleoni, e recentemente uno studio sulla famiglia dei Tasso, i Tasso è una famiglia bergamasca. Quindi, ecco, una persona che sicuramente è appassionato, e quindi oggi ci racconta la storia della guerra, ma in un altro modo. Abbiamo sentito i letterati, i poeti, l'ultima volta i soldati al fronte, e via dicendo. Oggi seguiamo questo racconto attraverso, soprattutto vedete, queste 100 fotografie per 100 anni. Io ringrazio il signor Stefano Cristini, e gli lascio la parola. Buonasera a tutti. Buonasera, dunque, io parlerò di questo libro, appunto, che è stato fatto su commissione del nostro giornale, dell'Eco di Bergamo, che mi ha chiesto di realizzare un lavoro che si basasse... Ecco qua. Ciudiamo via, mettiamo via questi, sportiamo tutto, ma c'è una grafia importante. Dicevo, ho realizzato questo volume fotografico, essenzialmente, che si basa su 100 foto, a celebrare il fatto che sono passati 100 anni. Una foto per ogni anno. Sono tutte quante foto, o la grossa parte, sono foto dedicate ai bergamaschi, alla città, o a soldati bergamaschi, o comunque che hanno a che fare con la nostra città e la nostra provincia. Sempre in merito alla grande guerra, alla prima guerra mondiale. Sono divisi per capitoli, ce n'è uno che parla dei grandi bergamaschi, dei bergamaschi comuni, di Bergamo nelle retrovie, e anche l'ultimo capitolo dedicato appunto al raggiungimento della pace e alla chiusura di questo conflitto. Io procedo senza indugio nel mandare le varie slide, che commenterò di volta in volta. Allora, questa qua è la prima pagina dell'eco di Bergamo, che appunto annuncia alla popolazione che l'Italia è entrata in guerra. Il 24 maggio, c'è da ricordare che quel giorno lì la gente era, come dire, piuttosto distratta, si parlava ancora a un anno di distanza, a dieci mesi di distanza, dal famoso caso del signor Pianetti, quello che aveva fatto quella strage in Vabrembana. Esatto, ma non solo. La sera prima, il 23 maggio, c'era stata una, come dire, una collutazione sul sentierone. Un industriale aveva litigato con un socialista per motivi inversi, nel senso che il socialista era un non interventista, l'industriale invece sì. e volarono schiaffoni e quello era l'argomento in voga a quel momento lì, mentre invece dovevano essere molto più interessati al fatto che l'Italia entrava in un conflitto che avrebbe causato parecchi lutti alla nazione. Quasi un milione di persone persero la vita senza contare tutti i feriti, tutti i mutilati, tutti i danni materiali e così via. Dunque, in questa foto vediamo Bergamo nel 1913, vale a dire due anni prima che iniziasse il conflitto mondiale. È una foto interessante perché mostra la visita di re Vittorio Emanuele alla nostra città. Il re è a bordo di quella vettura che si vede in primo piano attraverso i propri lei andando verso Città Alta, verso quel viale che poi prenderà il suo nome, Viale Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele è il secondo o il terzo? No, il secondo ha ragione. Vittorio Emanuele III alla seguito della sconfitta nella seconda guerra mondiale è stato radiato dagli albi di storia e non è neppure sepolto in Italia adesso è da Alessandria d'Egitto. In effetti è il nonno Vittorio Emanuele II colui che fece l'Italia con il risorgimento. C'è da ricordare però che nel 1913 l'Italia era alleata con i futuri nemici cioè con i tedeschi e con gli austriaci. Un'alleanza che durava da ben 30 anni che aveva prodotto una pace e duratura all'Europa che aveva fatto molto bene all'Europa e anche all'Italia. L'alleanza che invece andrà in frantumi dopo dieci mesi di non belligeranza da parte del nostro paese che alla fine si deciderà per lottare contro i propri ex alleati. non siamo sul fronte ma ci manca poco. In effetti Bergamo non è sulla linea del fronte ma confina con province che in realtà lo sono. Praticamente la provincia di Brescia e quella di Sondrio che si trovano da questa parte gestivano il fronte cosiddetto del Trentino un fronte secondario se vogliamo perché la guerra si svilupperà soprattutto verso la quella che adesso ricordiamo come Slovenia che come ex Jugoslavia e il fronte del Trentino invece era un fronte caratterizzato da una natura difensiva proprio per la struttura della montagna e si chiamerà anche la guerra bianca proprio per il fatto che con queste vette la neve era presente spesso una volta faceva più freddo di oggi e quindi sul tonale sulla Damello si combatteva Bergamo Dista come confini da queste località qua qualche decina di chilometri dalla parte alta diciamo dalla provincia tant'è che Cadorna che allora era il capo di stato maggiore dell'esercito italiano fa prontare una seconda linea difensiva proprio sulle nostre montagne se voi salite a Cassa Marco e vi salite un attimino vedete delle trincee che sono segnate nella foto in basso per fortuna questa linea di trincee non è mai servita perché in sostanza l'esercito austriaco doveva combattere su più fronti e per tutta la durata della guerra è sempre stata sulla difensiva nei confronti dell'esercito italiano più numerosa di numero quindi Bergamo come città e altre quattro città lombarde vengono come dire destinate a svolgere una funzione soprattutto di ospedale ed è qui che confluiscono la maggior parte dei feriti che la guerra provoca non solo italiani ma anche nemici venivano curati nei nostri ospedali la città di Bergamo si trasforma in un enorme ospedale c'erano ospedali ovunque il più famoso era quello molto vicino che adesso ospita il credito bergamasco credo che sia la banca quella di fronte ai propri lei si era le grazie il famoso ospedale alle grazie che all'epoca si chiamava ospedale militare circondariale delle grazie quello che vedete in effetti è il cortile interno delle grazie dove c'è l'oratorio e lì sono stati curati quasi 10.000 persone e ne sono decedute soltanto poco meno di un centinaio di cui 29 per spagnola quindi lavoravano già bene all'epoca mentre l'automezzo che vediamo nella seconda foto è una come dire è una croce rossa del tempo che faceva la spola fra le vie delle valli per salire poi nel tonale nell'adamello e riportare tutti i feriti in cura qui vediamo all'interno delle grazie la famosa sala operatoria con questo chirurgo che tiene in mano le amputazioni erano all'ordine del giorno per fortuna per fortuna che rispetto a 30 anni prima la mortalità da amputazioni si era molto calata perché si sono raggiunti come dire criteri di criteri di cura migliori che favorivano in sostanza il non decesso del paziente nell'altra foto vediamo un povero soldato mutilato che ha perso entrambe le gambe e che appunto è ospitato nel cortile che vi hanno visto prima nell'esploso queste persone qua oltre a perdere le gambe perdevano ovviamente anche la serenità e tutto quanto nello specifico questo ragazzo si suiciderà 10 anni dopo gli eventi il buon umore bergamasco comunque faceva capolino lo stesso anche in queste situazioni critiche questi sono i cuochi dell'ospedale delle grazie che cercano di sollevare un attimino l'animo di tutti i malati facendo i burloni per così dire nell'altra foto vediamo un altro un altro paziente che ha perso sempre le gambe la città oltre che dotarsi di ospedali si dota di magazzini soprattutto nella parte alta verso le valli ma anche in città e tende a difendere non solo gli uomini ma anche le proprie opere d'arte l'Italia è una nazione come sapete ricchissima di monumenti importanti Bergamo è una delle più importanti città italiane sotto questo profilo e quindi vennero messe vennero approntate delle opere che cercavano di garantire questi monumenti dagli eventuali bombardamenti che per fortuna all'epoca erano ancora piuttosto blandi perché gli aeroplani del tempo non avevano una grande autonomia e ne arrivavano al massimo due buttavano dalle bombe grandi come una bottiglia d'acqua e non facevano un gran danno ciò nonostante vediamo Santa Maria Maggiore e il mausoleo con leoni che sono completamente coperti da sacchi di terra dentro e con questa ingabbiatura che era fatta apposta preposta per la difesa nell'altra foto che invece non riguarda Bergamo ma riguarda un bergamasco si vede il catafalco che copriva Bartolomeo con leoni a Venezia la statua del Verrocchio famosa Venezia in effetti è stata vittima di alcuni bombardamenti austriaci che hanno gettato diverse bombe hanno fatto dei danni alla riva dagli schiavoni per fortuna non colpirono né San Marco né questa famosa statua del Verrocchio qui si vede uno dei magazzini che ho citato prima tutte queste capanne d'alta quota che poi verranno distrutte alla fine della prima guerra mondiale e contemporaneamente si rinforzano gli assi stradali si cominciano a gettare le basi per quelle che poi diventeranno le ferrovie delle valli e se fate caso alla foto vedete molte donne nell'immagine proprio perché gli uomini erano quasi tutti in guerra quindi si sfruttavano tutta la manodopera possibile qui si torna a parlare di donne perché le fabbriche ovviamente si svuotano tutti gli uomini validi sono richiamati al fronte e le donne vengono mandati in fabbrica alla Mannesmann fabbrica tedesca alla Dalmine Mannesmann ha fatto di tutto ha giurato ha stragiurato in ginocchio che lui era italianissimo al di là del nome e in effetti fu creduto però molti cognomi diciamo così che suonavano tedeschi ebbero i loro problemi i primi mesi di guerra nella bergamasca le bombe che venivano fabbricate dalle mogli dalle fidanzate e dalle figlie venivano poi portate dai mariti dai padri o dai compagni in alta quota per rinforzare le batterie che sparavano sul nemico sugli austro-ungari c'erano bombe pesantissime quindi è importante come dire con i cannoni sicuramente ma anche con gli aerei quelli che potevano portavano qualche bombetta la buttavano giù ma soprattutto sono bombe da obice o da cannone e niente quindi prima di partire ogni buon bergamasco si fa la sua bella foto la foto ricordo la fa con i familiari con i fratelli con gli amici eccetera in questo senso Bergamo ha avuto la fortuna di avere in casa un fotografo veramente geniale un grande artista Eugenio Goglio di Piazza Brembana devo ringraziare qui la provincia di Bergamo che mi ha dato il permesso di utilizzare il fondo Goglio fondo che io poi ho colorato se fate caso sono tutte foto riprese al computer a cui ho cercato di dare del colore però sono tutte foto originali del 1915-16 grosso modo quella sulla per loro è la sinistra quella sulla sinistra ritrae un signore già anziano in effetti è un ausiliario questo non andrà al fronte combatterà farà la sua guerra servendo nei magazzini nelle retrovie perché ha già una certa età l'altro invece è un alpino il classico alpino bergamasco che partirà per il Carso o per il Trentino a seconda di dove era destinato qui si vede un'altra foto molto bella quella con i due alpini un capolavoro del Goglio secondo me una sorta di Cartier-Bresson locale molto interessante è anche la foto con la famiglia espressiva con la nonna la sorella la moglie i figli queste due sono foto molto interessanti perché quella con i tre soggetti lo è dal punto di vista costumistico indossano tutte e tre una divisa di fine ottocento ma i magazzini dell'esercito ne erano talmente pieni che verrà usata fino al 1918 era il famoso uniforme di servizio quella bianca sta a indicare che il soggetto lavora nelle cucine mentre l'altro è un ragazzino vestito all'alpina che tutto orgoglioso si mette vicino alla sedia con il cappello di suo padre è segnata anche all'età 13 anni questa è un'altra bella foto sono quasi tutte foto di soggetti brembani ovviamente perché Goglio aveva lo studio a piazza brembana lì veniva raggiunto da questi da questi individui che volevano farsi appunto riprendere veniva montato questo telo oppure utilizzate dalle scenografie delle quinte che lo stesso fotografo aveva nello studio e venivano era per nascondere dicevo era per nascondere appunto la campagna la paglia in questo caso si è probabile che questa foto sia stata fatta nella casa del soggetto non del Goglio in effetti la famiglia è molto numerosa ha anticipato il volere del duce che voleva famiglia molto numerosa e qui abbiamo un ritratto del famoso Eugenio Goglio con in primo piano un bersagliere sempre fotografato dallo stesso nel 1915 quando l'Italia entra in guerra come era già successo l'anno prima per gli stati tedeschi francesi inglesi russi si aveva l'idea che la guerra dovesse durare pochi mesi una scampagnata e il nemico avrebbe subito perso e tutto finiva lì in effetti se fate caso a questi bergamaschi lì nella stazione dalle valli credo che sia quella dalle valli oppure la foto si titola scaldano i muscoli perché sono tutti lì a fare quella ginnastica un po' ridicola convinti di andare a fare questa guerra ricetta qua nell'altro invece si vede tutto l'ordine ancora iniziale della guerra in una cucina da campo questo è il capitolo che riguarda i bergamaschi al fronte inizio con un riepilogo dovevo metterlo alla fine ma l'ho messo all'inizio all'epoca l'Italia aveva 40 milioni di abitanti circa 39 per la precisione di questi 700.000 erano bergamaschi furono oltre 12.000 caduti però il museo storico di Bergamo mi informa che è un numero che non è mai completo continua a crescere ogni anno ne salta fuori qualcuno anche perché mancano all'appello un migliaio di prigionieri che non sono mai tornati e non sono mai neanche stati definiti morti quindi si sa insomma che si tenderà verso i 13.000 come numero complessivo di caduti ovviamente e qui vediamo un cannone un cannone posto sul fonte Trentino subito dopo la Strathen Spedition nel 1916 gli austro tedeschi organizzano una spedizione per punire gli italiani spedizione che per fortuna nostra verrà controllata contenuta e questo è uno dei cannoni appunto che fece il tiro di controbatteria per fermare gli avversari l'altra foto invece mostra sempre a piazza Brembana un automezzo Fiat che aveva appunto lo scopo di portare avanti indietro i soldati dal fronte questa è una bella foto che mostra la dimensione di questi ordigni questi ordigni qua che esplodevano in misura del 90% quindi l'1% cadeva così e chi lo prendeva in testa faceva un bel disastro il soldato ne è quasi intimidito sembra quasi accarezzarlo questo proiettile dunque l'esercito italiano è composto di fanti di artiglieri di bersaglieri di marinai di avviatori e i bergamaschi sono quasi tutti alpini perché siamo come dire una popolazione per la maggior parte montana o collinare e quindi siamo stati destinati a questo corpo qua che fra le altre cose era il più tenuto dagli avversari perché era il più gnocco il più ostico in sostanza quello che teneva botta più degli altri è molto famosa e nota la foto quella che mostra l'alpino di vedetta nella nella sua trincea mentre in primo piano si vedono degli alpini che scaldano le gavette in una fase di riposo nei primi giorni di guerra questi sono sempre altri alpini è una compagnia di una batteria campale piccola una media un medio cannone pensate che questi personaggi qua la portavano in cima alla montagna questo cannone uno si prendeva la ruota destra uno la ruota sinistra uno lobby ed era una fatica immane per fortuna erano tutti giovani e baldi tutti speranzosi in un buon futuro ufficiali e soldati quello con il frustino è un ex è un farmacista di seriate credo che si chiami Pellizzoli o qualcosa del genere mi sono state fornite queste immagini dal centro di mediazione didattica di seriate che è un altro polo abbastanza attivo per questo genere di ricerche insieme all'archivio che ho citato prima all'archivio della provincia di Bergamo e anche all'archivio della Croce Rossa italiana sezione di Bergamo che è risultata ricchissima come materiale un materiale veramente interessante il gruppo invece cos'è? il gruppo sono sempre dei cinque bergamaschi la cosa più curiosa di questa foto è l'aeroplano di carta che tiene il soggetto sull'estrema la mia destra la vostra sinistra è interessante perché all'epoca c'erano i biplani e quindi noi siamo abituati ad altri aerei quindi questa qui è una cosa un po' curiosa quantomeno questi sono soldati bergamaschi al fronte questo per darvi l'idea di come vivevano i soldati vivevano lì dentro 24 ore al giorno 7 giorni su 7 31 giorni su 31 nei mesi di 31 era una vita veramente grama anche perché nel frattempo gli avversari continuavano a sparare colpi di mortaio arrivavano ogni tanto di qui facevano morti feriti l'umidità faceva il suo gli animali i topi infestavano queste trincee insomma era una vita infame qui siamo sul fronte del monte Magna Boschi questa l'ho messa sul desiderio esplicito dell'eco di Bergamo perché Camillo aspetta un attimo adesso non ricordo Fumagalli Camillo Fumagalli che fu un ex direttore dell'eco di Bergamo combatté proprio su questo fronte e proprio nell'artiglieria quindi ci tenevano che questa foto venisse pubblicata un altro grande bergamasco è Luigi Angelini il famoso ingegnere che ha collaborato parecchio con Marcello Piacentini la cui opera si vede proprio in questa piazza lui stesso è un architetto oltre che ingegnere ha costruito se non sbaglio circa 400 edifici nella provincia di Bergamo ed era anche un grande disegnatore questo è un suo schizzo dal vivo dalle trincee che apparivano lungo il greto del Piave perché come sapete dopo la tragedia di Caporetto il fronte si sposta si riduce per l'Italia noi ci ritiriamo lasciamo qualche centinaio di migliaia di uomini prigionieri e facciamo questa linea di difesa proprio sul fiume Piave un fiume largo che consente appunto di contenere le truppe vittoriose austriache questo è un altro personaggio interessante Fermo Pelandi è quello nel mezzo con la sigaretta che ha a suo fianco un soldato che veste una delle primissime maschere antigas che consisteva in un fazzoletto intriso con del con del cotone in cui venivano messi dei prodotti che dovevano filtrare il più possibile ma erano veramente inefficaci subito dopo ci doteremo anche noi come gli inglesi e francesi di maschere antigas più efficaci è interessante invece l'uniforme dell'altro soldato che porta una sorta di scafandro che si chiamava corazza farina dal suo inventore questi soldati qua erano dei volontari si mettevano questi schermi proprio per andare a tagliare i reticolati che li separavano dalle trincene nemiche questi sono sempre altri soldati bergamaschi qui ho detto appunto seriate bergamo bassa alta treviglia dell'isola insomma tutti i bergamaschi hanno fatto questa guerra e intanto si iscrive a casa e sui giornali l'eco di bergamo ovviamente terrà per tutta la durata del conflitto delle rubriche apposite in cui pubblicherà le varie lettere dei soldati oppure farà un reportage dei caduti segnalando gli atti eroici che via via si otterranno nel conflitto è interessante la lettera che invece appare dall'altra parte dell'immagine per quella grossa e vistosa macchia nera quella lì è la censura non si poteva indicare la località il perché il percome il nome del regimento dalla compagnia la specialità dell'esercito a cui si apparteneva insomma non si doveva dare nessun segnale che tornasse utile al nemico per individuare e conoscere maggiormente era una precauzione sostanzialmente inutile perché sono state spedite circa 4 miliardi di lettere nella prima guerra mondiale perché c'era la spedizione con franchigia vale a dire i soldati non dovevano spendere neanche un centesimo per mandare le lettere venivano mandate gratis e ne sono state prodotte veramente tante qui si vede un accampamento di nostri militari in alta montagna qui non siamo in trincea ma comunque l'idea è di una vita veramente difficile a Caporetto la Caporetto che ho citato prima succede questo patatrack il disastro e noi ci ritiriamo scappiamo in tutte le maniere questo treno è stipato in ogni dove e se fate caso sono anche sul tetto del treno e questa è una parte dei tantissimi prigionieri che abbiamo lasciato in mano agli austriaci qui siamo in un paese dell'oltre Piave cioè nella zona che sta fra San Donati Piave e la Tisana e sono circa 50.000 i prigionieri che vedete in questa foto adesso passiamo al capitolo che invece parla di bergamaschi come dire famosi e quello in primo piano è Locatelli il nostro grande avviatore uno delle pochissime tre trimedagliato d'oro insomma che abbiamo avuto nella nostra storia militare qui è a bordo proprio dell'aereo che gli servì questa foto la fecero tutti i protagonisti del volo su Vienna e questa appunto è quella che riguarda il nostro Locatelli qui lo vediamo sempre insieme al suo aereo e l'altro invece è un mio disegno che mostra appunto Locatelli Antonio che volando su Vienna getta i famosi siamo al 9 di agosto del 1918 la guerra scusate un secondo la guerra si sta per concludere d'annunzio a questa idea geniale di bombardare con dei foglietti la capitale avversaria e partirà con 12 aerei di questi due saranno bergamaschi uno dei due bergamaschi sarà costretto a un atterraggio di fortuna e verrà fatto prigioniero dagli austriaci mentre il nostro Locatelli oltre a buttare i volantini farà anche le foto che sono proprio le foto note che ancora adesso sono passate alla storia che mostrano Santo Stefano dall'alte e così via questo è un altro mio disegno oleografico con indietro il volantino una copia del volantino che fu lanciato su Vienna e in filigrana vediamo appunto una delle foto che ho appena citato questo è un altro famoso bergamasco non so se lo conoscete è Angelo Roncalli il futuro papa Giovanni e all'epoca era un bel sergentone e oltre che cappellano militare ovviamente nella nella sanità per meriti per meriti di servizio diventerà addirittura tenente alla fine verso la fine del conflitto quella foto la foto sotto è stata scattata in Svizzera era un punto di transito una sorta di accordo non accordo preso con l'Austria la quale ci passava i feriti che non intendeva curare o che era troppo dispendioso per loro curare e noi facevamo lo stesso con i loro prigionieri venivano passati e questa fu una delle idee avute dallo stesso Roncalli non è proprio sua ma collaborò parecchio a questo fatto questi invece sono i fratelli Calvi come sapete la famiglia Calvi ha dato quattro figli alla patria di questi però uno è morto dopo la guerra andando in montagna ricalcando le orme dei fratelli che erano scomparsi e per un incidente cascato è morto uno dei tre invece è morto praticamente il giorno dopo la fine della guerra perché aveva contratto la spagnola mentre i due sono morti in combattimento il più famoso è Santino che è questo eccolo qua qui lo vediamo all'ospedale delle Grazie insieme a un veterinario a un medico e a un tenente degli Alpini un tale Damiani di Clusone un altro eroe di guerra qui vediamo Santino pesantemente fasciato perché era talmente audace questo soldato qua che nello scalare uno sperone per cercare di prendere gli austriaci come dire a tradimento di nascosto venne colpito da una scheggia proprio alla mandibola gli fece un male terribile e fu mandato ovviamente in cura a casa ma lui smaniava per tornare nuovamente al fronte di fatti c'era stato poco è tornato addirittura fasciato al fronte e morirà nell'attacco sulla marmolada venne colpito più volte si parla di una decina di colpi e lui ad ogni colpo proseguiva all'ultima si è fermata e pare che abbia detto Kestale che è la buna perché insomma l'altra foto l'altra foto è interessante perché la casupola che vedete in cima a questa montagna segnava il confine di là ci sono già gli austriaci in sostanza e soltanto uno dei tre è un calvi credo che sia quello nel mezzo ed è Attilio in questo caso gli altri due sono due fratelli Lady altra famiglia di eroi bergamaschi molto più fortunata perché sono partiti in tre e sono tornati in tre questa è una bella foto della famiglia Calvi in tempi felici quando c'erano tutti erano tutti bambini quello di cui abbiamo parlato prima è questo qua oppure questo qua adesso non so bene è sempre fatta dallo stesso goglio perché erano di piazza brembana entrambi sia la famiglia Calvi che il papà dei fratelli Calvi è stato anche sindaco del paese di piazza brembana questa invece è una foto della famiglia Lady una famiglia della buona borghesia bergamasca e nell'altra foto si vedono sempre i tre soggetti che abbiamo visto prima su quello sperone di montagna perciò ci sono no in questo caso c'è un Lady un Ceresoli e un Calvi i preti hanno fatto la loro parte non solo Don Angelo Roncalli ma anche Don Bandinelli e Don Beppo Vavassori cominciamo con Don Bandinelli questo si è fatto volontario è diventato come dire cappellano è passata alla storia un suo battibecco con il sergente di sanità Angelo Roncalli perché si erano trovati non d'accordo su alcuni dati per poco non si sono dati alle mani dicono quando poi divenne Papa Papa Giovanni si abbracciarono ricordando appunto questo fenomeno che era accaduto credo che sia Diosio sotto Don Bandinelli però non vorrei dire una cosa per l'altra Don Beppo Vavassori allora ho sbagliato si è di ambivere allora Don Bandinelli ho invertito Don Beppo Vavassori è in mezzo a dei reduci lì Don Beppo è questo qua vedete che c'è le stellette da tenente è cappellano militare personaggio famosissimo divenne anche direttore dell'Eco di Bergamo fra le altre cose ha fondato il patronato San Vincenzo una sorta di Soan Giovanni Bosco Bergamasco via questi sono altri due personaggi veramente curiosi che andrebbero riscoperti e rivalorizzati cominciamo dal primo Gennaro Sora che è questo con il bastone eroico pluridecorato divenne famoso nel 1928 perché fu fra i personaggi fece parte della squadra che cercò di arrivare a salvare la squadra di Nobile sul polo nord la famosa tenda rossa quello sotto invece direi udace direi poco Giovanni Bartolomeo Rigoni è un avviatore seriatese un po' dimenticato aveva la passione per il volo e alla fine ottenne il brevetto e un asso dell'aviazione non ha buttato non ha come dire colpito tanti aerei come baracca però ne ha buttati giù parecchi pure lui ogni tanto veniva buttato giù pure lui qui si è fatto fotografare vicino nella zona di Caporetto fra l'altro qua come ha fatto a uscire in denne questo è non lo sa solo lui si Capitan Sol è stato medaglia d'oro e Giovanni Bartolomeo Arrigoni non so che medaglia ha preso ma qualcosa gli è andato di sicuro erano anni questi qui dall'aviazione della prima guerra mondiale in cui c'era molta cavalleria si ricorda nel caso di Arrigoni uno scontro che ebbe con un suo collega austriaco un duello durato un'oretta alla fine l'ebbe vinta Bartolomeo Arrigoni questo è caduto ma è caduto nelle linee italiane ferito gravemente Arrigoni ha voluto assisterlo sul suo letto di morte questo pilota gli ha dato un plico di oggetti che appartengono alla sua famiglia oltre a una lettera di comiato dei suoi Arrigoni ha preso l'aereo è volato sulle linee austriache e ha buttato il plico del suo avversario pensate cosa facevano in questi anni qui vediamo sempre una foto di Arrigoni è difficile ottenere foto di Arrigoni questo sono riuscito a trovarla in un aeroclub della Brianza addirittura dovrebbe essere questo eccolo qua con i baffetti lui ebbe la sfortuna poi di cadere male l'ultima volta poco prima della fine della guerra e morire è uno di quelli che non è riuscito a vedere la fine della guerra come tutti questi poveretti c'è da ricordare che un po' per il freddo un po' perché avventurarsi nella terra di nessuno la terra di nessuno è quello spazio che separa le due trincee era come dire pericoloso è un eufemismo era molto di più che pericoloso tant'è che alla fine questi prigionieri questi morti questi poveri caduti non si riconoscevano più non si sapevano più se fossero austriaci italiani e così via la stragrande maggioranza dei caduti a questo proposito apre una parentesi il problema si presentò soprattutto per i caduti italiani perché a differenza degli altri eserciti non avevano una piastrina per la verità ce l'avevano ma era di cartone quindi l'umidità la pioggia la neve facevano marcire questa questa mostra questa questa piccola tesserina che veniva incavata qua subito dopo per fortuna adottarono anche loro il sistema degli altri in metallo insomma i danni non erano solo sugli uomini ma anche sulle cose qui vediamo un esempio di un bombardamento credo che sia la città di Conegliano Veneto si muore qui appunto potrebbe potrebbe richiamare un pochettino la foto di quello che ho appena descritto prima cioè questo è un pilota austriaco si vede dalla croce del suo albatros l'aereo che sta alle spalle l'ala è un caduto e questi due italiani vanno a vedere un attimino cosa è successo gli prendono i documenti per vedere per farne il riconoscimento in sostanza ed è una scena probabilmente simile a quella che hanno avuto quelli che hanno preso il corpo del pilota buttato giù dal nostro Arrigoni l'altra invece è una foto fatta da da Angelini di un cimitero di guerra e ci si arrende queste sono tutte due foto di prigionieri austriaci sono nudi perché venivano disinfestati puliti e curati prima di essere mandati come dire in galera in prigione ci sono due tipi di trattamenti diversi gli austriaci avevano un'economia un po' più solida di quella italiana ma verso la fine della guerra non avevano più niente da mangiare mentre gli italiani avevano tantissimi problemi ma non mancava il cibo quindi i soldati austriaci venivano rifocillati sono tornati a casa più pesanti di quando sono stati catturati per così dire gli italiani invece no gli italiani poi vedremo una foto più avanti in cui capirete un pochettino come ci si trattava gli austriaci venivano mandati prigionieri anche nelle cascine locali questa qua è una foto interessante perché si tratta di una decina di prigionieri austriaci che sono stati come dire tenuti dal conte Morlani di Stezzano che li utilizzava per pulire i suoi campi e le sue proprietà ovviamente ci si fidava questi non scappavano perché non sapevano poi dove andare questa è una bellissima foto di Goglio io la volevo pubblicare come la foto misteriosa poi a lei come hanno detto di no perché è misteriosa per questa ragione sembra che siano almeno una decina di componenti di dieci eserciti diversi componenti di questa immagine qua le uniformi sono veramente variegate dovrebbero trattarsi di dovrebbero essere quasi tutti dei prigionieri meno il nostro italiano che è questo qua tutti gli altri erano divisi qualcuno austriaca e quindi sicuramente prigioniero qualcun altro però c'è dei cappelli alla serba come questo come questo e quindi dovrebbero essere dei nostri alleati sfollati perché avevano perso la guerra sono stati presi dalla nostra marina in Albania e portati qua c'è anche un francese quello con il basco e insomma c'è un po' di tutto questa è la foto che vi dicevo prima questi sono soldati italiani a Graz una città dalla Stiria vicino in Austria e si intuisce che insomma non se la passavano tanto bene in quanto ad alimentazione alcuni hanno le gambe veramente messe male questa è un'altra foto interessante questi qua sono soldati austro-ungarici però sono tutti italiani no no sono altri sono proprio trentini questi parlavano in italiano quello più collare è come dire un po' più gioviale che è questo qua racconterà nelle sue memorie che ogni volta che dovevano fare l'attacco o che facevano gli attacco gli italiani si urlavano fra di loro oh sparate in alto proprio per evitare che si ammazzassero fra italiani insomma racconta anche che c'era questo scambio di tabacco contro cibo gli italiani buttavano là il salame buttavano là le patate buttavano di là quello che avevano da mangiare in relativa abbondanza e quelli di là ci buttavano il tabacco che scarseggiava da noi ultimo capitolo finalmente la pace qui ci sono le foto fatte a ridosso degli ultimi mesi del 18 quando i soldati tornano a casa si ritrovano tutti quelli del paese sono quasi tutte foto della valbrembana perciò Branzi no Branzi non è la valbre oh sì sì Branzi e piazza brembana e così via si fanno inconti un mare di feriti mutulati e scemi di guerra questa brutta definizione nasce proprio in quei mesi lì sono tantissimi quelli che tornano dalla guerra completamente rincretiniti se mi passate il termine proprio perché spaventati da una vita infame quello che vediamo con il berretto bianco che sembra un infermiere invece è un famoso psichiatra dottor Antoniazzi che ne è in cura tantissimi quella sotto è un'altra delle navate dal solito e famoso citato più volte ospedale alle Grazie questa anche adesso in queste sale c'è la banca in sostanza e più fortunati qui tornano a farsi le foto la famosa foto che hanno fatto all'inizio se la fanno anche alla fine però sono rilassati perché la guerra è finita e fanno festa fanno Baldoria tutti si rimettono in posa come questi tre infermieri della sanità questi cinque alpini tutti contenti della loro medaglia di fine guerra alpini fanti genio e sanità fratelli in armi è interessante la foto questa qua perché si tratta di due arditi gli arditi sono due fratelli arditi sono quelli che daranno come dire saranno il serbatoio del primo fascismo per così dire perché questi qua avevano paura di niente spaccavano il mondo e il duce e i suoi accoliti all'inizio ne hanno fatto un largo uso insomma e anche le donne fanno festa quella col cappello dal primo ovviamente indossa l'uniforme del marito che è diventato sergente nel frattempo l'altra è interessante perché queste donne qua vogliono assumere un'area militaresca hanno trovato questo vecchio schioppo da cacciatore e si sono fatti prestare due berretti dalla guardia di finanza che aveva dalle casermette in cima alla Val Brembana e ovviamente il sollievo colpisce le famiglie questa è una corriera che va avanti indietro si torna alla vita di prima in definitiva ancora vestiti da militari perché non si smobilita nell'immediato però siamo lì e si va a fare la famosa scampagnata fuori porta questi sono due fratelli bandinelli i ragazzi del 99 perché uno è del 99 e uno è del 98 quello più alto e tiene il fratello quasi con fare materno per dire sta attento qua ci sono due ausiliari che tornano utilizzeranno le divise per fare i loro lavori nei campi in effetti quello lì in giro con il cavallo l'altro con la bicicletta e l'altro è un alpino che torna con il suo questo è l'ultimo è l'ultimo numero è l'uscita dal giornale il 5 di novembre quando viene annunciato l'armistizio dell'Austria a Villa Giusti viene firmato il 4 l'armistizio però è operativo dal 15 del giorno 5 e fino alla 15 del giorno 5 si sparerà infatti ne morirà uno un tenente volontario che aveva nascosto sull'età aveva 18 anni invece aveva 20 e morirà proprio mezz'ora prima che cessassero le ostilità l'altra è una mia tavola che ho voluto dedicare ci sono i due nemici c'è il soldato tedesco austriaco diciamo e il fante italiano sotto come dire la torre dei caduti che verrà eretta proprio che allora non c'era che allora non c'era verrà proprio eseguita per l'occasione Bergamo ha dato 800 caduti circa alla grande guerra e qui faccio un riepilogo dei ringraziamenti e questa è la famosa croce grazie a tutti volevo aggiungere che così un dettaglio non so se la sede dove venivano accolti quelli che furono chiamati gli scemi di guerra tra virgolette perché è proprio brutta era Astino Astino in quel periodo diventa il manicommio dei soldati e adesso che hanno fatto il trasloco perché sapete che appunto adesso è diventato quello che è diventato hanno trovato tantissimi documenti che raccontano che parlano di questi soldati che venivano raccolti lì proprio perché uscivano di senno poi c'era tutto il problema se uscivano di senno veramente o se però la stragrande maggioranza usciva di senno per veramente perché l'esperienza era talmente drammatica difficile che perdere la trebisonda non era non era non era impossibile anzi era facile magari voi a casa nel vostro nel vostro solaio nelle vostre cantine avete di queste fotografie fatele avere al signor Cristini che lui li raccoglie e magari facciamo una bella pubblicazione Anteas e signor Cristini per per così ricordare no per carità tutti li abbiamo buttati via no perché a un certo punto mi ricordo personalmente anche si ha detto buttiamo via tutte queste cose e adesso si rimpiange un po' questo fatto che invece magari era bello tenere anche che sono alcuni ricordi e volevo dire al signor Cristini noi per esempio giovedì scorso abbiamo avuto un incontro col dottor Carminati del centro studio di Valimagna che ci ha presentato una serie di lettere raccolte e fra un po' io spero di poter no spero presenziare a un incontro dove verrà pubblicato una serie di circa 800 lettere scritte da un sacerdote Don Canova che io non so come hanno fatto questi quali hanno tenuto lì questi pacchi di lettere adesso l'hanno trovata e si farà una pubblicazione questa pubblicazione faccio un po' di pubblicità anche per me sarà introdotto da una mia riflessione legata al ragionamento quale rapporto tra mondo cattolico e guerra perché ecco secondo me un tema che forse andava approfondito è stato questo qua ma come è possibile che dei cristiani uccidessero altri cristiani perché se andiamo a vedere c'erano specialmente noi in Germania e Francia potevano dirsi cattolici da una parte protestanti dall'altra a grande linea ma qua in Italia era dall'altra parte c'erano gli austriaci che erano cattolicissimi e c'era il papa benedetto quindicesimo che invece continuava a dire basta con questa guerra tanto vero che nel 1917 farà una bellissima enciclica più che enciclica fu una nota in cui definì la guerra inutile strage e tutti anche questo Canova io ho letto queste lettere a un certo punto e anche quel Fanti di cui abbiamo parlato giovedì scorso come si chiamava non mi ricordo più diceva ma abbiamo saputo di questa nota ma sappiamo anche che gli stati la prendono e l'hanno buttata nel cestino ecco lo dico a parole mie però e quindi questo contrasto tra la figura del pontefice e i cattolici dei vari paesi è veramente una cosa che una delle tante cose che non riusciamo a capire perché non riusciamo neanche a capire come facessero a vivere in quelle condizioni come facevano a vivere questi ragazzi di 20-21 a 18 anni a viverli dentro non lo so io proprio non riesco a capirle forse non è vi ricordate il professor Perti ci diceva per capire bisogna cambiare un po' la mentalità perché se no noi non riusciamo a capire perché noi siamo tendenzialmente pacifisti loro erano tendenzialmente invece nazionalisti per cui però anche questo scontro ma anche il stesso Angelo Roncalli e adesso stiamo c'è un professore del seminario che sta raccogliendo dei documenti anche lo stesso Angelo Roncalli sì da una parte rispetta il Papa ovviamente ma dall'altra parte dice dobbiamo fare il nostro dovere noi cattolici italiani dobbiamo fare il nostro e dare il nostro contributo alla patria e se vuoi è interessante un altro aspetto posso rubarvi cinque minuti e una cosa che mi ha colpito in queste letture che ho fatto è leggere le preghiere del soldato c'erano tutte ma distribuivano quei quei santini no? qui sono dietro c'era e sono di due tipi fondamentalmente c'è una preghiera in cui sull'insegnamento di Benedetto XV la preghiera rivolta a Dio la Madonna eccetera in cui si invoca la pace ok? e l'altra invece della maggioranza in cui si invita e si invoca la protezione di Dio è per la vittoria per la sconfitta del nemico per fare grande la nostra patria quindi anche lì mi sono chiesto ma oi com'è questa storia io non la capisco molto però effettivamente se voi andate hanno il museo di Rovereto sapete che a Rovereto c'è un bel museo hanno raccolto molti di questi santini e leggendo le preghiere dietro questi tu cogli questa differenza da una parte c'è una preghiera per la pace e questo credo che lo facciamo anche adesso noi no? lo fa il Papa anche adesso la pace ieri no? quando si sono incontrati hanno detto preghiamo per la pace e quindi questo è comprensibile eccetera ma dall'altra parte ci sono queste preghiere la Madonna eccetera per vincere per far vincere i nostri ammi per far sconfiggere il nemico nemico che in fondo senza in fondo era dalla tua stessa religione quindi anche questo tema secondo anche se sicuramente è secondario rispetto agli altri argomenti ma anche questo aspetto ci fa capire come per cogliere quelle vicende bisogna proprio cambiare mentalità di fatti recentemente mi sono un po' confrontato con il professor Pertici su questo tema e lui mi diceva mi ha fatto una nota interessante guardate che allora non esistevano i pacifisti tutt'al più erano neutralisti cioè nel senso che diceva noi siamo pacifisti adesso vogliamo proprio la pace allora al massimo erano neutralisti cioè volevo dire non entriamo in guerra quindi quindi per vedere come come è la mentalità la cultura e quindi anche lo stesso lo stesso gli stessi uomini del mondo della religione hanno cambiato mentalità la cultura ripeto però a fronte di un insegnamento di Benedetto Quindicesimo che io non conoscevo come Papa ma l'ho scoperto leggendo questi questi giorni queste letture era veramente un grande pontefice di grande religiosità e c'è una nota dell'allora ministro di un politico di allora se non ricordo il nome dice Benedetto Quindicesimo grande persona ma completamente isolata per cui perché se tu vai a vedere cosa dicevano i vescovi francesi viva la guerra viva la Francia eccetera se vai a vedere se vai a vedere cosa succedeva in Austria addirittura Cecco Beppe l'imperatore a un certo punto lui fa una preghiera in cui dice io mi consacro a te sacro cuore sacro cuore è un modo di predicare è tipico di quel periodo e dice io mi consacro a te consacro a te le mie bandiere le mie armi fammi vincere questo era Cecco Beppe quindi se vai a vedere tutti gli episcopati non è solo quello italiano che dice vinciamo ma tutti gli episcopati ripeto cattolici lasciamo parlare dei protestanti che appunto dicono pregano per la vittoria la loro vittoria quindi questo è un elemento che ci fa capire vi chiedo scusa se vi ho rubato ma è una cosa che sto riflettendo e spero che sia pubblicato questo mio studio scusate scusate se intervengo solo un momento cercherò di essere brevissima vorrei dire al conferenziere questa cosa noi abbiamo visto fotografie bellissime di persone che partono o che arrivano però li vediamo tutti ben vestiti cioè con gli stivali con gli scarponi con le divise in ordine basta andare a vedere dei musei nella non so nel Trentino o in alta Valcamonica eccetera vediamo che erano con gli scarponi di cartone non era e vivevano nelle trincee abbiamo visto qualcosa nel film di Olmi di Olmi nelle trincee ho intravisto nei suoi nelle sue fotografie due l'inizio di due gallerie perché c'erano queste gallerie era solo per potersi riparare un momento lì dentro e dove potevano arrivare non so a 2.000 e 5.000 a 3.000 metri i rifornimenti quindi le fotografie sono belle però la realtà vera è mi rincresce a dire è nascosta grazie però l'abbiamo intuita anche se non c'erano le fotografie però quelle due o tre fotografie di quei cimiteri di guerra sì certo c'era un'altra cosa che colpisce io in questo periodo sto leggendo un po' di lettere dei soldati di questo cappellano leggo mi sono alzato sono andato di qua sono tornato là ho mangiato il caffè ho bevuto ma è tutto lì non dice niente mi diceva ancora il professor Pertici ma non potevano scrivere perché se scrivevano qualcosa di particolare avete visto l'ha censurato per cui questi pistolari sono interessanti però devi un po' immaginare quello che perché loro non te lo dicevano perché sapevano che se dicevano qualcosa di più eccetera gli veniva cancellato gli veniva cancellato come lì avete visto quindi anche questo aspetto lo stesso per le fotografie ancora di più per le fotografie perché si rischiavano dieci mesi di galera per notizie non per le foto era ancora più ancora più vietato sì per avere un'idea di cos'è stata la guerra consiglio di leggere un libro di un notaio bergamasco Valdimagnino di Cepino Giuseppe Personeni che ha scritto uno dei primi libri in cui la guerra veniva interpretata senza la retorica che poi il fascismo ha caricato e dice le cose come stanno e si ha proprio un'idea dell'idiozia dei comandi e nel libro lui parla in modo aperto quindi lo consiglio veramente per chi vuole approfondire volevo aggiungere il titolo del libro è stato citato giovedì scorso la guerra vista da un idiota tenete presente un particolare dopo le lascio la parola grazie quando nel 22 è stato stampato è stato subito bruciato quel libro lì e si è salvato dopo perché in quel periodo lì invece valeva il discorso della retorica di chi vinceva tutto bello eccetera e allora quando esce e lui ha avuto dei problemi perché qualcuno gli voleva tirare le orecchie e di fatto non è uscito di fatto perché è stato bruciato dopo è stato ripreso ed è stato pubblicato negli anni 50 e poi ripubblicato di recento degli anni 90 mi pare prego scusa il professore ha citato giustamente Astino come ricovero per i malati mentali io darò la specifica adesso di tutti gli altri ospedali con le varie funzioni abbiamo parlato tantissimo dell'ospedale alle grazie e anche dell'ospedale san marco che sorgeva proprio qua al posto del san marco hanno costruito l'auditorio poi si sposterà all'ospedale agli ex ospedali riuniti mentre i tubercolotici venivano curati in una sezione apposita presso il convento dei celestini vicino allo stadio i rachitici invece venivano curati nella clinica del dottor Matteo Rota e le malattie venere invece in un presidio che si trovava alla malpensata di fronte al foro Boario più o meno infine un contributo lo diede anche il dottor Silvio Gavazzini nelle sue cliniche lì venivano eseguite quasi tutte le radiografie che venivano richieste per i vari interventi ecco qua volevo concludere con questo fatto bene altre domande? bene siamo cinque minuti prima fa niente grazie diciamo di continuare però in questa operazione di raccolta del materiale è importante raccogliere il materiale non disperderlo per cui ecco voi lo conoscete adesso se avete certo uno che ha lì una o due fotografie non ha senso cosa vuol dire però se li mandate una persona che raccoglie da uno a due diventano molto e molto più numerose va bene ci vediamo giovedì con oggi abbiamo concluso questo viaggio negli anni della prima guerra mondiale e riprendiamo un altro cammino giovedì prossimo grazie si si se qualcuno ha delle fotografie datele pure a me che io sono in contatto col dottor Cristini e gliele trasmetto va bene buonasera di nuovo si alla marinaretta si grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti